ciao a tutti da gabriele qualche giorno fa ho postato un video in cui mostravo sull'Aidenance 640 come modificare da parametri macchina la visualizzazione dei cicli fissi all'interno dei propri programmi in realtà poi ho pensato che era un peccato non dare questa informazione anche relativa al controllo 530 che è comunque un controllo molto diffuso molto longevo e probabilmente riscuote ancora molto interesse da parte di chi come voi siete sempre alla ricerca di informazioni riguardo controlli numerici allora adesso io ho la mia sono nell'editing e ho la mia visualizzazione standard diciamo quindi quella in cui mi viene presentato il ciclo fisso possiamo dire esploso quindi con una struttura adeguata allo spazio a disposizione quindi mostrato verticalmente con tutto l'elenco dei parametri presenti all'interno del ciclo anche qui appunto si ha la possibilità di modificare come su 640 questa visualizzazione e allora andiamo a vedere come la struttura dei parametri del 530 è completamente diverso rispetto a quindi a quella del 640 ed è per questo motivo che ho deciso di realizzare anche questo piccolo video relativo al 530 allora andiamo a vedere siamo nel modo operativo editing premiamo anche qui il tasto mode e alla richiesta del numero di codice insegniamo 1 2 e 3 diamo ent e a questo punto siamo entrati nei parametri macchina ok il parametro che noi dobbiamo andare a cercare appoggiandoci al soft key cercare in basso a destra è il parametro 7 2 8 1 eseguiamo la ricerca ed eccoci qui quello che interessa a noi è la 7 2 8 1 punto 0 programming editing qui è scritto non è detto che poi magari sulla vostra macchina sia comunque indicato un commento ma il parametro è sicuramente questo ora è indicato il valore 0 ed è quello che mi permette di vedere i cicli fissi sempre appunto esplosi qui la possibilità di inserimento è con i valori o 0 come adesso oppure 1 oppure 2 cominciamo inserendo 1 quando si modificano i parametri macchina vi ricordo sempre di sincerarvi che nel soft key in basso a sinistra inserire e sovrascrivere che voi siate nella modalità sovrascrittura ok così abbiamo sovrascritto il numero 1 al numero 0 presente a questo punto col tasto and usciamo dai parametri macchina e ritornando nel nostro programma vediamo che il ciclo non è più esploso in verticale ma è tutto concentrato su un'unica riga che si perde e non vediamo nella sua interezza se noi ci muoviamo con il cursore ci posizioniamo sulla riga del ciclo fisso a questo punto ci dà la possibilità di vederlo nella sua interezza ok e qui da questo punto è possibile entrare e realizzare tutte le modifiche del caso anche qui appunto c'è un'altra possibilità a livello di parametri macchina per editare questi cicli fissi e allora ritorniamo nei parametri macchina mode editing mode ricerchiamo inseriamo di nuovo il codice 123 e di nuovo facciamo la ricerca con il parametro 7281 eseguiamo la ricerca eccoci qui e adesso inseriamo il numero 2 usciamo di nuovo col and dai parametri siamo di nuovo qui il ciclo sembra scritto nello stesso modo è sempre su una riga in realtà io muovendomi con il cursore sul ciclo fisso in questione vedete che non è sufficiente perché mi venga esploso e mostrato tutto in verticale per poter per poterlo visualizzare quindi in modalità esplosa mi occorre con le frecce di posizione entrare all'interno del ciclo quindi editarlo e allora solo a questo punto mi verrà presentato in verticale in tutta la sua modalità esploso e mi darà la possibilità di inserire i valori che intendo inserire terminata la mia compilazione del ciclo nel momento in cui ritrovavo schiaccio il tasto end il ciclo ritornerà tutto racchiuso sulla riga 2 spero che anche questo piccolo video interessi sono convinto di sì così facciamo contenti anche gli operatori su idian 530 che ad oggi credo che siano ancora molti di più rispetto a chi ha a disposizione un 640 torno a dirvi che non fatevi scrupoli se avete eventuali richieste esigenze non esitate a chiedere che eventualmente posso valutare se se la vostra richiesta può essere sfruttata per realizzare un altro piccolo video come questo per adesso vi saluto e buon lavoro a tutti ciao ciao